E sulla prevenzione quella, chiamiamola primaria o secondaria, cioè tu spendi tempo nel dire ai pazienti la protezione dalla luce solare, un certo tipo di alimentazione, l'utilizzo di integratori, sugli integratori bisogna fare di distinguo. Allora adesso c'è un utilizzo secondo me esteso, inappropriato degli integratori. Per qualsiasi problema, per qualsiasi tipo di problema alla retina che viene riscontrato, viene dato l'integratore. L'integratore, ammesso che quelli in commercio siano realmente, diciamo, come dosaggio simili a quelli degli studi clinici, cosa che spesso non è. Ma comunque il ruolo dell'integratore è nel prevenire la progressione delle forme di degenerazione maculare da iniziali intermedie ad avanzate. Questo nasce per quello l'integratore. Poi da lì è stato l'utilizzo esteso a qualsiasi situazione. E questo secondo me è una cosa che è comunque da precisare. Sulla protezione, gli occhiali da sole, l'alimentazione, certamente hanno un ruolo. Però ormai a 50, 60 anni, 70 anni, non dico che i giochi sono fatti, ma insomma abbiamo più poco da proteggere. Dirò di più, chi ancora ha il suo cristallino, devo dire che lo fa egregiamente il suo cristallino. Certo. La protezione della riduzione ultravioletta. Quindi non abbiamo tanto da spaventarci. Forse è una prevenzione che si deve iniziare a 10 anni. Ok, la cultura della protezione delle radiazioni e della luce solare. Forse è lì. Sì, sì, ma è la cultura del proprio benessere, della propria salute. Esatto. E torniamo al ruolo tuo pregresso di amministratore. Io credo che questo paese stia facendo veramente poco nell'ambito del promuovere la coscienza della propria salute dalla giovanità. Gli stili di vita. Lo stile di vita. E colpevolmente fa poco, perché non stiamo parlando degli Stati Uniti, dove c'è una società variegata, con una non cultura alimentare, e anche, se vuoi, del bello, cosa a cui noi siamo abituati in questo paese, visto la storia culturale del paese, le realtà architettoniche, le opere d'arte. Noi siamo il paese del bello, del buon mangiare, del buon vivere, no? L'Italia e il Mediterraneo. E quindi per questo il nostro sistema è colpevole, perché non promuove a sufficienza nelle scuole l'educazione alimentare, la cultura in generale, che ti fa stare meglio anche in termini di salute. E davvero bisognerebbe iniziare a farlo, perché viceversa ci troviamo a verificare che stiamo importando il cosiddetto stile di vita da junk food che sta imperando oramai nel nostro paese. Per cui ti accorgi che ci sono giovani, ragazzi, che non hanno assolutamente nessuna cultura alimentare, che magari passa anche attraverso il sapersi fare da mangiare, il sapere cosa stai mangiando, il saper fare la spesa. E quindi c'è una forbice, come spesso succede nei paesi industrializzati. Una popolazione, diciamo, agiata o con una certa ricchezza che ha sempre più attenzione rispetto alla propria salute che deriva dagli stili di vita, quindi alimentazione, e una popolazione invece, spesso meno agiata, che si dimentica di questa cosa, no? Guarda, quello che tu dici è verissimo, tanto che adesso sempre più spesso, e io questo l'ho fatto nella mia esperienza da vice sindaco e assessore della salute nel Comune di Genova, i comuni sono coinvolti in questo. E lo dico a ragionveduta perché il Comune di Genova, insieme ad altri comuni, 6-7 comuni in Italia e a tantissime altre città in Europa, è entrata a far parte del programma Cities Changing Diabetes, che è un programma internazionale, sponsorizzato da una grossa multinazionale, finlandese, mi pare, che ha l'obiettivo di migliorare gli stili di vita, ridurre la sedentarietà, soprattutto delle città metropolitane, che sono quelle dove sedentarietà, scarso movimento, soprattutto durante e dopo il Covid, dove lo smart working sta imperando, riducendo quindi il movimento dall'ufficio a casa, e hanno, in tutte queste città, un rischio di diabete elevatissimo. Il diabete ormai è la malattia cronica non trasmissibile più diffusa al mondo, è un'epidemia ormai. Certo. E nelle città metropolitane ha una incidenza elevatissima. E questo programma, Cities Changing Diabetes, è nato ormai 15-20 anni fa per promuovere i sani stili di vita e combattere la sedentarietà. E stanno coinvolgendo i comuni. Noi, il nostro comune di Genova, è stato coinvolto con diverse iniziative, proprio di prevenzione. Io, tornando al discorso precedente, in merito agli integratori come parte della prevenzione mi sono un po' ricreduto. Nel senso che io associo l'integratore, ovviamente, che abbia un razionale, magari anche a livello di conoscenze di base, non necessariamente rispetto a studi clinici, alla sollecitazione, a uno stile di vita di un certo tipo. E credo che le due cose assieme possano fare la differenza, perché in realtà la gran parte, molte delle nostre malattie degenerative sono poi la conseguenza di uno stile di vita inadeguato. Poi c'è la genetica, dunque la familiarità, il fato. Però, ecco, mi sono un po' ricreduto sugli integratori come parte integrante di una modifica del tuo stile di vita che comprende anche l'alimentazione in senso lato. L'alimentazione in senso lato. Anche in senso lato. Grazie a tutti.